Terminata l'unità di crisi della regione Abruzzo, alle nostre spalle nella sede dell'assessorato regionale alla sanità, la decisione ufficiale è quella che le scuole nella nostra regione riapriranno regolarmente il 10 gennaio, proseguiranno in questi giorni gli screening per gli studenti. Abruzzo che si avvia a diventare zona gialla. Io ho chiesto anche al ministro Gelmini e Speranza di smetterla di fare tamponi a raffica sulle persone asintomatiche perché oggettivamente questo sistema non regge più in tutta Italia, tutte le regioni sono disperate perché è impossibile fare un tracciamento quando i casi sono milioni e le persone da tracciare sarebbero nel giro di una settimana praticamente tutta la popolazione. Quindi ci stiamo concentrando sullo screening per gli studenti per riaprire il 10 nella maggiore sicurezza possibile cercando di far emergere al setaccio tutti i casi positivi che possono emergere con uno screening con i tamponi antigenici. E poi continuare a lavorare come abbiamo fatto, la regione Abruzzo è tra le migliori in Italia come performance in questo senso, gli anticorpi monoclonali, insomma le cure, le terapie. Adesso ci hanno distribuito anche questo nuovo farmaco che cominceremo ad utilizzare sui casi target. Presidente, l'Abruzzo entra in zona gialla con questi numeri? Sì, ma non fa sostanzialmente nessuna differenza perché alcune delle misure come quella delle mascherine all'aperto erano state già introdotte nelle zone bianche, quindi credo che ci sia l'unica differenza sensibile quella che dentro i ristoranti si sta in quattro a tavola invece che con un numero maggiore, quindi tavoli più piccoli con meno persone a tavola. Però nella sostanza non cambia praticamente nulla. Sulla vaccinazione io rinnovo l'invito a vaccinarsi e a farlo tutti quanti perché anche oggi abbiamo fatto la consueta nostra analisi sull'impatto nelle terapie intensive in particolare e il 78% delle persone che occupano le terapie intensive in Abruzzo non sono vaccinate. Noi abbiamo ormai quasi il 90% della popolazione che è stata vaccinata e di questa un terzo abbondante ha già raggiunto la terza dose, quindi restano fuori poco meno del 10% della popolazione. Questo poco meno del 10% di popolazione che non si è vaccinato riempie quasi per l'80% è quella che occupa i posti letto in terapia intensiva e per oltre la metà i posti letto in area medica. È vero che è relativamente meno pericolosa la omicron della variante delta, ma provocando un numero molto maggiore di persone che si ammalano, anche se la percentuale di quelli che finiscono in terapia intensiva è più bassa, il numero assoluto alla fine diventa insostenibile ed ha provocato quello che sta accadendo, più del raddoppio dei posti letto occupati. è un trend che ancora continua a crescere e le previsioni ci danno almeno altre due settimane di questo trend prima di attendersi una discesa.